So, pictures... This was Brazil... Che cosa fanno l'antica? Iliadomeo, Brasile Iliadomeo Curiciba Curiciba Esperimenti Romantici Rio, Ipanema Beach Porto Alegre Padova A very special day This should be Cairo This is definitely Helsinki Helsinki again Vintage time Suomalim Helsinki Ha The boat From, from, from Stockholm Helsinki Asi My pink flag mood The Northern Finland The Northern Finland The South of Finland Helsinki Balloons Moscow Compositions Montebello I can't really Best city Krasners Is It Ha This is kisina RJ What? I was I had to An This one Sì, 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 sì. Ehi, ciao Carlo Ciao, ciao Vabbè, batterlo Batterlo Moldova L'alba, caspita Eccola qui Kishinov, Boston 2009 Eh sì, qualche giorno dopo A fine agosto era Dopo quel fatidico 14 Notte di San Lorenzo Fico Bellissimo Eh, un'emozione questa volta Le 6 alla mattina Eh sì, sì Moldova, Moldova Vabbè Uh, questo Ah no, questo è il deserto bianco Egitto Moschei Cairo E questo Per quanto riguarda il landscape Un po' così Un'infarinatura di landscape Grazie a tutti Grazie a tutti.